Con i canottieri di Firenze oggi la discesa dell'Arno, arriviamo fino qui a San Giovanni. Per noi, Consorzio di Bonifica, un'occasione per vedere il fiume da un altro punto di vista, direttamente dalle sue acque. Un'occasione per vedere lo stato di salute del fiume, la presenza di rifiuti, di plastiche, se occorrono interventi nuovi, straordinari, per la messa in sicurezza delle sue sponde o interventi puntuali di manutenzione ordinaria. Quindi un momento importante per il Consorzio per stabilire lo stato di salute di questo importante corso d'acqua della Toscana e per anche accogliere il punto di vista dei canottieri che appunto lo vivono dal suo interno. La parte con i canottieri di Firenze sta dentro al contratto di fiume Acquedarno, qui in Valdarno, e ci consente con i vari attori del territorio di stabilire una partnership, un legame stretto per portare il fiume al centro, al centro della vita delle nostre comunità, ma anche al centro degli interessi e delle attenzioni delle istituzioni. Dalle prime informazioni che ci arrivano dai canottieri che stanno appena sbarcando alle mie spalle, sembra che il tratto d'arno che hanno percorso dalle sue esorgenti fino qui a San Giovanni sia in buone condizioni. Questo vuol dire che il Consorzio di Bonifica ha svolto un buon lavoro per mantenere in efficienza il corso d'acqua e per svolgere l'attività di manutenzione ordinaria. E' altresì importante che soprattutto in questo tratto abbiamo fatto anche interventi strutturali importanti per la tenuta e la messa in sicurezza dell'intero territorio.